Buongiorno, per questo lunedì che è uno degli ultimi per fortuna, grazie all'orario che ci hanno dato. Volevo partire, così mentre magari arrivano ancora gli ultimi sparuti, dando un'occhiata insieme a voi al calendario rimanente delle lezioni. Ci sono, se non ho contato male, cosa che non è da escludere, sono 4 settimane rimanenti di lezione. Bene, iniziamo oggi l'ultimo macro argomento, che è quello delle simulazioni, che ci terrà compagnia per due settimane. Due settimane, in te, comprende le lezioni e i due laboratori. Quindi i due prossimi laboratori, quello di mercoledì e quello di mercoledì prossimo, saranno sul tema delle simulazioni ed eventi che iniziamo oggi. Dopodiché, a fine maggio, io vedo quale è la data del 31 maggio, il programma del corso è finito. Nel senso che non vi raccontiamo più niente di nuovo, diciamo così, di teorico, ma dedichiamo il tempo esclusivamente a fare esercizi. Traendoli, diciamo, totalmente al 99% dai temi di esame precedenti. Quindi risolviamo insieme in aula, dedichiamo le ore a risolvere qualche tema d'esame di quegli scorsi, cercando di campionarli un pochino, alcuni sulla ricorsione, alcuni sulle simulazioni e così via. I due ultimi laboratori saranno in qualche modo atipici, li ho chiamati simulazione d'esame numero 1 e simulazione d'esame numero 2. Cosa succede? Ci mettiamo nelle condizioni più simili possibili a quelle in cui svolgeremo l'esame. Sia come tempi, sia come strumenti di lavoro. In modo da arrivare all'esame, avendo già in qualche modo fatto le prove generali. Questo vuol dire, in pratica, uno, che vi daremo il testo seduta stante e non giorni prima, come succede all'esame. Due, che lavorerete uno per macchina, cercando di lavorare, diciamo, ciascuno sulla propria applicazione. E questo è un suggerimento, ovviamente non è che vi possiamo fare del male se non lo fate. E tre, soprattutto, non potrete usare il vostro portatile. A questo fate attenzione perché l'esame ovviamente viene fatto sulle macchine del laboratorio, dell'app. E molti di voi oggi, cioè oggi, in laboratorio usavano quasi sempre la propria macchina. Ecco, per evitare sorprese dell'ultimo momento, le ultime due esercitazioni vi chiediamo di lavorare esclusivamente sui computer del laboratorio. Così, se ci sono dei problemi con la configurazione, oppure vi familiarizzate, in un caso, con l'ambiente, come è stato dove hanno installato XAMP, dove hanno installato Eclipse e menate di questo genere. Quindi, le ultime due simulazioni, cerchiamo anche di sfruttare i due turni, in modo da poter il più possibile simulare quello che avviene nell'esame realmente. Quindi l'esame durerà due ore, noi abbiamo il turno di tre ore, quindi c'è tempo di entrare, prepararsi, eccetera, eccetera. Quindi simuliamo proprio anche i tempi reali. Quindi, a differenza, adesso tutto sommato, molti giocavano sul fatto che c'erano sei ore consecutive, arrivavano con una colazione tranquilla e poi stavano fino a quando non hanno finito. Ma va benissimo, finché c'è spazio, va benissimo che ci organizzi come crede. Però quelle due volte invece cercheremo di mantenere delle tempistiche proprio simili a quelle dell'esame. Poi, sull'esame specifico, sulla logistica dell'esame, quindi orari, cosa potete fare, eccetera, ci arriveremo un po' più vicino, ne discutiamo una mezz'oretta poi in una di quelle settimane, così vi presento bene qual è il flusso delle operazioni. Voi sapete fin da ora, anzi, fin da sempre, che all'esame sarete messi nelle stesse condizioni di lavorare in cui siete adesso nelle esercitazioni. Quindi avete la possibilità di usare internet per trovare le cose che vi servono, avete la possibilità di usare o riusare del codice che avete fatto o che vi portate dietro, che avete fatto durante il corso, che trovate su GitHub, quello che preferite. Quindi la difficoltà dell'esame non è ricordarsi a memoria una cosa che ho fatto due mesi fa, non serve a niente, perché nella vita professionale, per fortuna, si fanno cose più furbe che non cercare di ricordarsi di cose a memoria e sicuramente bisogna essere in grado di trovare la cosa giusta, che è anche un pochino più difficile che non... Quindi, vabbè, poi come dicevo, nella settimana del 5, ragioneremo anche sulle modalità pratiche dell'esame. Ecco, l'ultima cosa che mi viene in mente sull'esame è l'orario. Allora, sul portale della didattica ovviamente c'è scritto l'orario. Noi quell'orario non basta, nel senso che storicamente al primo turno, cioè al primo appello, visto il numero di iscritti e il visto numero di macchine nel laboratorio, tendenzialmente facciamo tre turni. Quindi, che è un primo turno dalle 8.30, diciamo alle 11.30, 12, il secondo turno dalle 11.00 alle 14.00, il terzo turno dalle 15.00 alle 17.00, una cosa di questo genere, per riuscire a fare... Quindi, tenetevi liberi in tutto il giorno. Solo quando avremo le iscrizioni, cioè il giorno è quello, l'orario non lo so. Molto probabilmente, cioè sarà una fascia oraria, molto probabilmente ci saranno tre turni. Almeno il primo appello, al secondo di solito riusciamo a farlo in due turni, ma dipende, due o tre. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che ha... Allora io cosa faccio? Io aspetto l'elenco, una volta che ho l'elenco completo degli iscritti, che è due giorni prima dell'esame, lo sapete, divido in tre blocchi uguali. Dopodiché sorteggio questi blocchi, per non dare... C'è solito quelli che ora sono più sfortunati perché vengono sempre per primi. Sorteggio l'ordine con cui questi tre blocchi, diciamo così, devono presentarsi e poi lo pubblico. Quindi il giorno prima saprete in che fascia oraria. Se ci fosse qualcuno, non perché non gli piace svegliarsi presto, perché c'è l'amico che... Ma perché magari in quel giorno, in un orario diverso, ha già un altro appello, ha già un altro esame, me lo dice e io ne tengo conto nel formare i gruppi. Quindi su questo vi chiedo precisione nel prenotarvi, perché a me cambia chiaramente... Se vi prenotate e poi decidete di non venire, o vi sprenotate dal portale, oppure almeno me lo dite, visto che siamo abbastanza contati come posti e come tempo. Ma questo lo ripeterò anche più avanti. Ok, allora, diciamo che con questa chiacchierata iniziale abbiamo cercato di svegliarci un po' e possiamo partire col tema di queste due settimane, che è quella delle simulazioni ad eventi discreti. Cosa vuol dire, cosa ne facciamo, eccetera. Allora, immaginiamoci un contesto in cui un manager deve decidere delle strategie. Io voglio gestire il funzionamento di una determinata cosa e ci sono vari modi di farlo. Allora, voi in molti altri corsi di tipo di stampo più gestionale avete spesso imparato dei metodi, dei metodi che si applicano in certi casi. Se devi progettare una certa cosa, hai questo schema, hai questo canvas, hai questa tabella, hai questa metodologia, hai questa checklist e cose di questo genere, che sono strumenti che ti aiutano a prendere una decisione, a selezionare tra le varie alternative quale è più adatta al tuo caso. Questo va bene, queste soluzioni si applicano su problemi che sono in qualche modo ripetitivi, ripetuti, cioè talmente comuni che addirittura qualcuno si è preso la briga di definire un metodo che sia applicabile sempre per quel tipo di problemi. applicabile tra l'altro con un certo grado di approssimazione. Quindi, in qualche modo, questi approcci, diciamo così, analogici, cioè per analogia con quel caso in cui la soluzione si è trovata con questo processo, lo applico anche in un altro caso. Sono un pochino limitati dal punto di vista, possiamo dire, della forza del risultato. Ho applicato il metodo del dottor Dalleitali e mi è venuto fuori questo risultato, quindi deve essere la cosa giusta anche per me, a me puzzerebbe sempre un po' una risposta di questo genere. L'alternativa potrebbe essere, facciamoci un modello matematico, facciamoci un modello matematico da cui poi calcoliamo qual è la soluzione ottima. stupidaggine. Adesso il Politecnico piange tanto perché gli mancano le aule, poi qua è vuota. È meglio fare lezione dalle 19 alle 20 e 30 o al sabato mattina? Lasciate perdere cosa è meglio per voi, perché poi i tecnici non risolvono. Cosa è meglio dal punto di vista logistico, dei costi, dei tempi, quale soluzione risolve meglio il problema? È chiaro che tutto ti puoi mettere a formalizzare le cose, fai un'equazione, un sistema che non sarà lineare, che avrà tante righe, colonne, quante sono le aule, i corsi, le ore, eccetera. Non lo so se ne viene a capo, io non ne verrei a capo di sicuro in un approccio matematico, ma c'è chi è più bravo di me a fare queste cose, un approccio matematico-statistico, per cui sei in grado a fronte di varie ipotesi che sono anche molto diverse tra di loro, facciamo la notte o facciamo sabato mattina, non vi dico le soluzioni che sarebbero furbe, perché le sapete anche voi, e poi calcoliamo i costi e i benefici di ciascuna. Il problema è che questo calcolare significa uno costruire dei modelli, ammesso di saperli costruire, costruire dei modelli matematici complicatissimi e saperli risolvere, dicevo ammesso di poterli costruire perché magari dentro un modello matematico c'è una variabile che è la resistenza o la preferenza degli utenti, allora se tu fai lezioni a sabato e poi non viene nessuno, hai fatto un buco nell'acqua, e quello come lo metti nelle equazioni, come fai a sapere quanti verranno, quanti invece preferiscono avere almeno un minimo di vita. quindi da un lato hai dei metodi magari che non ti servono, non sono applicabili al tuo caso, dall'altra la soluzione pura, dura, matematica non riesci a applicarla e come puoi fare? Però alla fine le decisioni le devi prenderle, allora o le prendi a muzzo, a caso, così a distinto, no? Il manager è uno che ha distinto, oppure oggi impariamo un modo per poter stimare, prevedere, simulare l'effetto di una determinata scelta strategica. Qui noi ci costruiamo un mondo piccolo finto all'interno della quale andiamo a vedere cosa succede se, cosa succede se cambiamo le regole del gioco, cosa succede se variamo un certo parametro? E poi è chiaro che questo cosa succede se, appunto, una simulazione, un what if, non ci dà la risposta, allora devi fare così, ma ci dà degli elementi per poterci ragionare e poi prendere, diciamo, decidere per la risposta vera e propria. Il concetto di simulazione è un concetto abbastanza ampio, qui c'è una definizione di Shannon degli anni 70, che dice che la simulazione è il processo di progettare un modello di un sistema reale, quindi primo passo, io non potrò mai provare col sistema reale, proviamo un anno a fare così e poi vediamo, disastroso una cosa di questo genere dal punto di vista dei costi. E quindi faccio un modello e per definizione un modello è approssimato, tiene conto di alcuni aspetti e non di altri, va bene, speriamo di fare bene il modello e di tenere conto degli aspetti più rilevanti. E poi progettiamo questo modello e conduciamo degli esperimenti con questo modello, quindi proviamo a farlo lavorare, vedere cosa esce fuori da quel modello, con lo scopo o di comprendere il comportamento del sistema o di valutare vari tipi di strategie, ovviamente all'interno dei limiti imposti dai criteri o dai insiemi di criteri di cui abbiamo tenuto conto quando abbiamo creato il modello. Quindi o ho un sistema complesso, lo sto progettando, dico ma non ci capisco bene, ma proviamo a fare un modello, lo simuliamo e vediamo come si comporta e mi dà comprensione sul sistema. Oppure su questo sistema del mondo reale più complesso ho varie alternative su come realizzarlo oppure su come modificarlo e allora voglio valutare l'impatto di queste varie alternative. Ma questo lo posso fare attraverso questa tecnica della simulazione. Quindi in qualche modo la simulazione è un algoritmo, un sistema che contiene all'interno di un algoritmo, questo algoritmo comprende il modello e la capacità di eseguire il modello, cioè di capire, prevedere come questo modello si comporta, che poi magari non è, speriamo che sia indicativo di come il mondo reale si comporterebbe. E questo algoritmo ovviamente dipende dal contesto in cui questo modello viene eseguito. Quindi ci saranno delle variabili, dei parametri, dei contesti diversi che fanno sì che il modello si comporti in modo diverso. Il discorso delle aule che dicevamo prima, il modello si comporterà in modo diverso a seconda dell'orario che viene scelto, a seconda di un parametro che potremmo dire la propensione a tagliare, un parametro che potremmo dire i costi delle pulizie, dell'energia per tenere aperto un giorno in più, un giorno in meno, cose di questo genere. Ci sono tutti parametri vari a seconda dei quali poi l'evoluzione del modello è diversa. Quindi il sistema non sa lui qual è l'insieme di parametri migliore, glieli do in input, descrivo uno scenario, guarda tu come ti comporteresti in questo scenario? Lui prende lo scenario, prende un input che ne so quali sono i corsi, quali sono le aule, cosa succederebbe se invece costruissi tre aule in più? E allora cambiamo lo scenario, facciamo la versione, vengo al sabato oppure costruisco tre aule e vediamo cosa avviene meglio. Però su tutte cose, tutte ipotesi che devo fare io, qui deve essere come utente, l'utente sceglie lo scenario e poi gli dice al simulatore cosa succede in questo caso? Il simulatore tira fuori dei risultati, succede che ti costa tot, che la frequenza è tot, che andrai a regime in quell'anno eccetera eccetera. E quindi hai un sistema che ti permette in modo relativamente semplice, relativamente rapido di valutare vari tipi di ipotesi. È ovvio che più è accurato il modello e più è accurato lo scenario di simulazione, più i risultati che otterrai saranno validi. Questi risultati diciamolo solo, non significa l'intero elenco dell'orario, di tutte le aule, di chi è venuto, di chi non è venuto, di chi è stato a casa, di quanto ho speso eccetera, non mi interessa un dettaglio di questo genere. Quel dettaglio ovviamente se lo dovrà gestire l'algoritmo, ma come risultato finale mi servono pochi numeri, dei valori che mi riassumono come è andata la cosa. Quindi quelle che più avanti se non sbaglio chiamo misure significative, misure di interesse, non mi interessa vedere tutto, se voglio posso ovviamente vedere tutti i dettagli, ma a me interessano dei dati, diciamo così, riassuntivi. Vi racconto un aneddoto, io ricordo quando ero ragazzo, come sempre fantasticavamo con un amico su come andare a sbancare il casino, credo che tutti ci abbiano pensato prima un po', ovviamente sono qua quindi non ce l'ho riuscito, avevamo identificato un metodo infallibile, semplicissimo, tu giochi sul rosso e nero, punti 10 Euro, all'epoca era 1000 lire, puoi vincero o perdere, se vinci hai vinto 10 Euro, quindi ne hai 20 in mano, 10 li metti in tasca e con gli altri 10 ripeti, quindi non mi gioco mai più di 10 Euro. Se per caso perdo, ho perso quei 10, allora ne gioco 20, gioco 20, se vinco, ne vinco 20, quindi recupero, quindi alla fine ho 40, i 20 che ho puntato e i 20 che ho vinto, di quei 40, 20 mi vanno a coprire la puntata, 10 mi vanno a coprire la perdita del giro prima, metto in tasca, 10 li ho di nuovo per giocare e vado avanti così. Quindi se vinco, intasco 10 Euro e copro tutte le perdite precedenti, se perdo semplicemente gioco ancora una volta col doppio della puntata. Qual è il baco? Allora, quello tra l'altro sembrava funzionare anche, voi dite, ma la probabilità non è 50-50, fa lo stesso, tanto io continuo a raddoppiare finché non vinco e nel momento in cui vinco vinco, copro tutte le perdite precedenti. Allora per fortuna non siamo andati a fare questa cosa, ma abbiamo scritto programmino per vedere cosa sarebbe successo, quindi ho simulato questa cosa e ovviamente quando tu fai le puntate hai bisogno dei soldi veri per poter puntare, come dice lui. E quanti soldi ti servono? Diciamo che nel 50% dei casi ti servono 10 Euro, perché vinci alla prima volta? Nel 25% dei casi ti servono 20 Euro, in un caso su 4, in un caso su 8, perché un caso su 8? Perché perdo 3 volte di fila e allora mi serve 80 Euro, 2 alla terza. Se perdo 5 volte di fila mi servono 2 alla quinta, sono 32, 320 Euro e così via. Se voi vi fate una media di questa cosa, non spaventa più di tanto, perché tu hai un investimento, soldi che devi avere per puntare, che sale esponenzialmente ovviamente, ma la probabilità che ciò avvenga scende esponenzialmente, quindi è costante questa roba. In media ti servono solo 20 Euro, matematicamente sembrava quasi che avesse senso, però quando lo simuli, tu dici e poi capisci la probabilità che tu perda 8 volte di fila, 10, 12 volte di fila, è bassa, non è poi così bassa. Nel senso che se poi ti capita, a un certo punto cosa succede? che se tu veramente potessi attingere a una quantità infinita di denaro, vinci di sicuro, funziona questo. Vinci a un tasso molto limitato, cioè tu devi avere in tasca magari qualche miliardo di Euro per vincere 10 Euro alla volta, ma magari ci sono metodi peggiori. Invece se non hai una quantità infinita, a un certo punto ti trovi esposto, con la tua legge esponenziale di raddoppio delle puntate, ti trovi esposto con molti soldi e però non riesci a fare la puntata successiva, perché lì hai finito, quando arrivi la puntata di 600 mila Euro, quella da 1 milione e 2 non ce l'hai. Cosa fai lì? Allora lì abbiamo provato anche strategie alternative, o li do per persi e li recupererò a 10 Euro per volta, oppure abbasso le puntate, oppure faccio in modo di non raddoppiare, ma moltipito solo per 1 e mezzo, avevamo fatto un po' di prove. Alla fine facevi girare l'algoritmo, dopo un po', vedevi, a volte rimaneva lì intorno allo zero, a volte guadagnavi un pochino, poi a un certo punto infilavi la sequenza di perdite, di risposte negative e ti faceva sfondare qualunque tetto che tu avessi messo. Perché abbiamo capito che non era forse, attraverso una simulazione, la regola base è semplice, però anche giocando con varianti della regola base non siamo riusciti a trovare un sistema, il modello del sistema è molto semplice, rosso o nero, la strategia di gioco ne abbiamo provate diverse e alla fine il risultato era invariabilmente lo stesso, ti bruciavi tutto ciò che avevi e tornavi a casa piangendo. Quindi questo è un caso ovviamente semplice, un esempietto così. Però per dire come a volte è un approccio che ti permette di toccare un pochino più con mano cosa succede nel sistema, ti fai il calco probabilistico, investimento medio 10, eh vabbè medio, non dice niente, la varianza è già complicata da calcolare, ma poi ti dice qualcosa, mentre invece qua vedevi proprio i numerini che diventavano grandi e cominciavi a preoccuparti. Quindi questo è un po' un approccio che cerchiamo di adottare qua. Ovviamente non ti risolve tutto un approccio per simulazione, nel senso che in funzione del tipo di modello che devo simulare, la simulazione può essere più o meno costosa dal punto di vista del tempo di esecuzione, può essere una cosa rapida, può essere una cosa che magari richiede ore di elaborazione e il tempo di sviluppo del modello non è trascurabile, cioè se il modello deve essere accurato io dovrò avere dei codici e degli algoritmi che modellano il meglio possibile la situazione reale o meglio possibile per quanto sono le variabili ovviamente che intendo osservare. Quindi è uno sviluppo, un tempo di sviluppo del modello che non è banale e poi una volta che ho fatto il modello per quella situazione reale lo butto via, perché un'altra situazione richiederà un tipo di modello diverso probabilmente. E dopodiché il simulatore non ti dice qual è la strategia vincente, ti permette di provare le diverse, modificando un po' lo scenario e modificando un po' il modello. Quindi di nuovo, questo ho messo sotto gli svantaggi, non è detto che sia uno svantaggio, cioè ci vuole intelligenza per poterlo usare, non fa tutto da solo ovviamente, a differenza di un algoritmo che ne so, quando aveva l'algoritmo ricorsivo che ti dava lui la soluzione, questo non ti dà la soluzione, ti dà uno strumento per esplorare e per tentativi trovarti tu una soluzione, ma perché? Perché il modello è troppo complicato affinché l'algoritmo possa trovare la sola. E quindi abbiamo tra l'altro un compromesso sull'unicità o meno del modello, cioè io posso avere un modello che è estremamente accurato, però uso una volta sola, oppure un modello che non è ripetibile, non lo posso applicare da altre parti, viceversa posso avere un modello un pochino più generale, quindi lo adatto a varie situazioni, faccio la cosa delle aule, ma domani la faccio, che ne so, sul cinema, sugli orari del cinema, magari più o meno si adatta con poche modifiche, è chiaro che se io ho un algoritmo, un modello che si applica con poche modifiche a condizioni diverse, non potrà tener conto di troppi dettagli specifici, del fatto che magari alcune aule hanno una video di stazione, altre no, magari me lo perdo quello, perché ho un modello un pochino più generale che si adatta a vari casi e quindi non è così specificatamente, diciamo così, vicino a questo caso rispetto a un altro, però è uno strumento, come vi dicevo la prima lezione, quello che a me piacerebbe che quando affronterete un problema reale, abbiate degli strumenti concettuali e informatici per poterlo affrontare e non semplicemente applicare un metodo che altri vi hanno descritto o tirare la monetina, quindi questo è uno dei metodi da considerare, che poi non ci vuole molto, quella cosa di prima del casino si poteva fare in Excel, all'epoca non c'era ancora in Excel, oppure ci sono addirittura le aziende che hanno costruito dei prodotti software apposta per fare questo tipo di cose, nei tempi andati avevano addirittura inventato un linguaggio di programmazione che si chiamava Simula, che era un derivato del Pascal, che era stato pensato per facilitare la costruzione di simulatori di questo genere, poi è andato in disuso come tutti i linguaggi un po' troppo di nicchia. Quello che faremo noi ovviamente invece prende l'approccio duro e puro di dire noi ce lo costruiamo da zero in Java, quindi quali sono delle linee guida per poterci costruire un simulatore che possiamo poi usare per andare a valutare, esplorare, vari tipi di casistiche. Allora innanzitutto finora sono rimasto sul vago, sul generico, ma poi quando scendiamo un pochino nel dettaglio la simulazione può assumere varie forme, ad esempio, vediamo prima la seconda, simulazione statica o simulazione dinamica? Simulazione dinamica è un tipo di simulazione in cui la variabile tempo gioca un ruolo, quindi andiamo a vedere come evolve il sistema al passare del tempo. Quindi di fatto accendiamo il simulatore che sono le 8 di mattina e spegniamo tra virgolette il simulatore che saranno le 6 del pomeriggio o del venerdì successivo e nel frattempo andiamo a vedere che cosa è successo nel sistema in vari istanti di tempo. Viceversa una simulazione statica è una simulazione nel quale si vuole andare a verificare il comportamento di un sistema a tempo fermo, a tempo fisso. Ma cosa vuol dire? Pensate a chi fa calcoli strutturali, edifici, cemento, armato, ponti, cose di questo genere, oppure chi fa meccanica, i colleghi che fanno ingegneria meccanica che devono progettare dei sistemi, l'automobile, andare a vedere la distribuzione delle forze ad esempio in un determinato contesto, ma è più facile pensare all'edilizia in un contesto statico. Allora, calcolare con i metodi analitici della scienza delle costruzioni, quali sono le forze e i momenti, capire se questa soletta tiene o ci crolla sulla testa, questa forse è ancora relativamente facile da calcolare, ma in sistemi più complessi calcolare analiticamente, scrivendo delle equazioni, risolvendole, poi non me le risolvo, ma avrò dei sistemi automatici per risolvermele, equazioni differenziali, magari è troppo complicato. Allora, molti approcci, soprattutto su modelli che non sono troppo regolari, adottano quella che chiamano simulazione di elementi finiti, cioè modelliamo il comportamento di un cubetto di calcestruzzo, le leggi che lo regolano, mettiamone 100 milioni a descrivere la forma che vogliamo ottenere e attraverso un simulatore vediamo qual è il punto di equilibrio in cui si assestano, di fatto è come se simulassimo un transitorio fittizio, è come se questi pezzettini di calcestruzzo fossero, si trovasse dal nulla lì all'interno di quel pilastro e a un certo punto devono trovare l'equilibrio di forze, posizioni, spostamenti, deformazioni rispetto ai loro vicini. Questo non avviene realmente nel tempo, è semplicemente il simulatore che cerca di avvicinarsi alla soluzione, come se ci fosse stato appunto, fosse tutto stato teletrasportato in un'altra parte e dovesse assestarsi. Ovviamente non è detto che tutti i sistemi si assestino, ma quelli che vogliamo che siano stabili tendenzialmente si assestano di fronte a una piccola perturbazione, se hai un sistema in cui cambi un po' con le condizioni iniziali, lui divergenzi che convergere, quindi non trova una soluzione, ma comincia a oscillare, a distruggersi, non è il tipo di sistema che ingegneristicamente ha senso costruire, quindi non stiamo facendo esercizi matematico teorici, stiamo cercando di risolvere problemi concreti che dal punto di vista analitico sono troppo complicati. In quel caso lì non c'è il tempo, voglio vedere se in una distribuzione statica di forze, momenti di spostamenti di formazione etc., la soluzione che ottengo è accettabile, cose di questo genere. Nel nostro contesto è più facile immaginare situazioni dinamiche, un'evoluzione nel tempo, perché se vogliamo si applica anche a problemi più semplici e non troppo specifici come quello statico, quindi noi faremo praticamente solo simulazioni di tipo dinamico. L'altra variabile è quella dell'evoluzione dello stato, cioè il modello rappresenta il mondo reale, ma ci interessa rappresentare il mondo reale nel continuo, ad esempio temporale o spaziale nel caso delle simulazioni ad elementi finiti, ma pensiamo al caso più semplice del dinamico. Ci interessa il tempo come variabile reale oppure ci interessano solamente, oppure sufficiente diciamo così, concentrarsi su alcuni istanti di tempo ben specifici? Cioè il tempo lo possiamo, lo dobbiamo considerare continuo o possiamo per semplicità maggiore considerarlo discreto? Mi interessa tutto ciò che succede in qualunque istante di tempo oppure ci sono degli eventi significativi e tutto ciò che succede tra un evento e l'altro possiamo ignorarlo? Nel caso dei sistemi continui la simulazione è molto più complicata, perché io devo andare a livello informatico, il continuo non esiste, il numero reale non esiste, esistono solamente dei passi che posso fare più grandi o più piccoli e quindi devo trovare qual è il passo giusto, devo fare passi abbastanza piccoli da non perdere dettagli, ma abbastanza grandi da non metterci un miliardo di ore a simulare, eccetera, eccetera. Mentre invece nel discreto è più semplice, perché identifico quali sono gli eventi interessanti che mi cambiano in modo significativo qualitativamente sensato lo stato del sistema e uso solo quelli. Nell'esempio prima delle aule a me non interessa sapere che alle 9.09 c'è tizio che si alza perché deve andare in bagno o perché non ce la faccia più, mi interessa avere un dato che è in quella lezione di quell'aula, di quel corso quante persone c'erano e quante persone non è un dato, nella realtà cambia ogni secondo, potrebbe cambiare, ma nella simulazione non mi interessa sapere se uno è uscito e uno è entrato dopo, quell'uno lì non mi cambia la simulazione, ipotesi di modello, quell'uno lì non mi cambia il risultato della simulazione, non è perché quel tizio decide o ha bisogno di andare in bagno a metà lezione che il Politecnico decide di costruire un'aula in più o cose di questo genere, spero che il modello non sia così suscettibile a piccole variazioni e quindi decide di non modellarli, è una scelta ovviamente. Allora se io riesco a descrivere l'evoluzione di un sistema attraverso una serie di momenti discreti, distinti, è tutto più semplice, quindi io immagino che succede una certa cosa e poi fino a quando non succede quella successiva o non succede nulla, quindi il sistema lo immagino congelato, oppure tutto ciò che succede è talmente irrilevante, è un dettaglio per me, che non mi cambia il risultato. Nella mia simulazione del casino, se tra una puntata e l'altra dovevo andare a farmi un caffè per farmi coraggio, non era incluso nel modello, non cambiava niente, non cambiava l'esito del risultato, fallivo comunque. E poi c'è l'altra variabile, l'altra variante che è la ripetibilità o la stocasticità del modello. Se io posso immaginare un modello deterministico, deterministico significa che qualunque operazione che il modello fa è esattamente predeterminata, dà delle regole. E quindi se io eseguissi la stessa simulazione 2, 3, 8, 10, 70 volte mi dà esattamente i stessi risultati a fronte degli stessi dati di ingresso. Oppure posso avere, la maggior parte sono modelli stocastici, cioè da qualche parte c'è della randomicità, ci sono delle variabili che non conosco e a cui non voglio assegnare un valore così a caso e allora simulo il comportamento del sistema con dei valori che oscillano casualmente intorno all'interno di un range che ritengo ragionevole. Pensatevi, immaginatevi la biglietteria della stazione, quanti sportellisti devo mettere nelle varie ore della giornata e questo dipende ovviamente da quante persone arrivano, per non creare delle code mostruose, quindi devo avere un modello che mi tenga conto di quando arrivano le persone e poi sulla base di quando arrivano le persone, quanto tempo ci vuole servirle? Magari uno ti chiede un'informazione al volo, magari l'altro deve pianificare un viaggio complicato, quindi l'istante di tempo in cui le persone arrivano, quante persone arriveranno in una giornata? Non lo so, quanto tempo ci metto per ciascuna operazione, quanto è complesso ciò che deve fare ciascun utente in ciascuna situazione? Non lo so, però questo non lo so non mi deve fermare. Allora facciamo delle ipotesi, diciamo che tendenzialmente arriverà magari una persona ogni 5 minuti, però magari ci sono dei momenti della giornata in cui la probabilità che arrivi una persona è più bassa, quindi in quei 5 minuti non arriva nessuno e altri momenti della giornata in cui quella probabilità è più alta, allora magari in quei 5 minuti arrivano 2-3 persone, quindi potremmo, in questo caso stiamo descrivendo lo scenario stocastico, che è un input, assiste al simulatore, l'arrivo delle persone non è esattamente determinato, esattamente noto, ma è generato sulla base di certi parametri statistici che mi invento in qualche modo o che vado a generare dopo averli misurati, allora come faccio? Qual è il numero medio di persone che arriva? Qual è il tempo medio tra una persona e l'altra? Qual è la probabilità che in 5 minuti arrivi una persona, 2-3-4? Sono dati che si possono misurare, vado lì un giorno feriale, un giorno festivo davanti alla biglietteria col block notice e ho dei dati sulla base dei quali posso costruire un carico di lavoro per il mio simulatore che è realistico, preciso, perfetto? No, ma magari un po' realistico sì, quindi può esserci della stocasticità nell'input, nei dati o nel contesto su cui il sistema dovrà lavorare, anche il tempo di esecuzione, quanto tempo ci mette una persona una volta che è il suo turno in biglietteria a togliersi dai piedi, quindi a finire ciò che deve fare e quello può andare da 30 secondi a 10 minuti probabilmente, con che probabilità? Allora vado a vedere, vado a misurare, qual è la probabilità che ci mette a meno di un minuto tra 1-5 e tra 5-10, ad esempio facciamo roba grezza, perché se vogliamo rimanere nel discreto dobbiamo andare per fasce, non possiamo andare su un numerino specifico, altrimenti diventa troppo anche complesso il modello, bisogna sempre trovare, che non è facile capire all'inizio, trovare il giusto equilibrio tra essere dettagliato e tra invece essere più gestibile dal punto di vista della simulazione. Quindi possiamo avere randomicità nell'input oppure nel trattamento del modello stesso, quindi il modello internamente, ad esempio il tempo che ci mette l'impiegato è variabile e quello fa parte del modello, non fa parte di quando arriva alla persona. E quindi ho dei risultati in una simulazione stocastica che variano, perché ogni volta che era la simulazione lo scenario sarà leggermente diverso, statisticamente simile, ma nel dettaglio è diverso e anche se fosse uguale allo scenario, magari il comportamento del sistema è leggermente diverso. Quindi i risultati varieranno, anche a parità di condizioni esterne, il che è normale, perché visto che non ho la sfera di cristallo, non so esattamente quali saranno le condizioni in cui opererà il sistema. Devo avere dei margini e quindi vuol dire che io magari in una certa condizione ripeto la simulazione più volte per vedere il risultato in quale range oscilla, quindi avrò un intervallo di confidenza del risultato e non un valore specifico. Mi permette di esplorare in qualche modo in un botto solo scenari simili, in cui i risultati sono un pochino più alti e un pochino più bassi, perché già loro internamente variano. Dal nostro punto di vista pratico una simulazione stocastica è quella nel quale a un certo punto chiamiamo la funzione random per determinare o nella fase di definizione dello scenario iniziale o durante la simulazione e determinare se il sistema va in una direzione piuttosto che in un'altra, quali sono dei valori, quali sono delle scelte che il sistema può fare. E questo è abbastanza frequente, il fatto di avere delle scelte non esatte ma variabili. Ok, allora di che cosa ci occupiamo noi? Che cosa impariamo a fare all'interno di questo ambito molto ampio? Allora ci concentriamo sulla simulazione, che viene detta simulazione di eventi discreti, che è un tipo di simulazione dinamica, cioè in cui vado a studiare l'evoluzione nel tempo, quindi il tempo per noi è una variabile importante e una simulazione di tipo discreto. Quindi dell'asse dei tempi ci interessano solamente alcuni istanti, non tutti i numeri reali che compongono l'asse del tempo. Poi l'approccio che ci daremo è in grado sia di gestire delle simulazioni deterministiche sia delle simulazioni di tipo stocastico, ci cambierà abbastanza poco. Cambierà ovviamente come vado a generare le azioni, se lo faccio deterministicamente con if maggiore di 7 oppure se faccio if random maggiore di 0.3, allora vuol dire che il 30% delle volte succederà e il 70% delle volte non succederà, ma questi sono se vogliamo dettagli di programmazione quasi. Quindi è una simulazione in cui lo stato del modello cambia, cambia solamente in punti discreti, qui, là, là, in quest'ora, in quella altra ora, in quell'altra ora, o meglio, lo stato del modello, lo stato del sistema reale cambia in continuo, ma io faccio un modello che cambia solamente in alcuni istanti di tempo. Allora, per far questo il simulatore che cosa fa? Il sistema, il simulatore può gestire o può, diciamo così, è un gioco di parole, può simulare l'evoluzione del modello tenendosi traccia di una lista degli eventi che succederanno, degli eventi futuri. Simula come risponde, come risponderà al modello, quando si verificheranno certi eventi nel futuro. E ogni volta, quindi il simulatore, adesso poi vediamo questi eventi nel futuro dove arrivano, o arrivano dallo scenario iniziale, oppure il simulatore stesso che interamente li genera, perché se una persona è entrata dovrà prima o poi uscire. Quindi io quando analizzo l'evento che una persona è entrata, dovrò mettere in coda anche l'evento che questa persona uscirà tra 20 minuti, ad esempio. E quindi questi eventi si autogenerano, entriamo nel dettaglio tra un secondo. Immaginate che voi avete un mucchio di eventi che sono le previsioni o la simulazione, non sto prevedendo nulla, non sto dicendo che succederà così, sto dicendo se succedesse così, cosa capita? Sono le previsioni di ciò che succederà, al diverso istante di tempo. Io sono al tempo, adesso sono le 9.19, se volessi simulare ciò che succede adesso, ho una lista di eventi i quali sono tutti marcati con un tempo futuro maggiore delle 9.19. 9.30, 9.40, 12.15, 18.50 è quello che volete voi. Allora cosa fa un simulatore? Il simulatore innanzitutto deve determinare qual è il prossimo evento da considerare, da valutare. Quindi prima cosa che capita, supponiamo che andiamo a vedere gli eventi, quello 18.50 non mi interessa, quello 12.15 neanche, ce n'è uno alle 9.26, ce ne sono altri prima? No. Allora io trovo in ogni momento, so, ho una serie di eventi futuri, previsti, ma mi interessa uno solo per volta, il prossimo è il più vicino. E quindi il mio tempo salta da 9.19 a 9.26. dal tempo presente, il presente lo faccio saltare fino al tempo del prossimo evento. E vado a capire cosa succede al sistema alle 9.26, perché qualcosa probabilmente succede, perché c'è un evento da elaborare, c'è successo qualcosa e quindi il sistema in qualche modo reagirà. Quindi ogni volta mi chiedo, il simulatore si chiede sempre tra gli eventi che sono pianificati per il futuro. Qual è il più vicino? E sposta le lancette dell'orologio istantaneamente fino a quel tempo in cui avviene quell'evento. Elabora quell'evento e poi si richiede qual è il prossimo evento e così via. Tenete presente che nell'elaborare un evento il simulatore può generare, accodare, prevedere che si verificheranno altri eventi. Quindi questa lista degli eventi non è una lista statica che definisco all'inizio, prima dell'inizio della simulazione e poi è immutabile, devo semplicemente scorrerla dal primo evento all'ultimo. È una lista che si accresce. Perché l'elaborare un evento, come dicevo, se c'è l'evento e entra una persona, il simulatore non potrà pensare che quella persona non uscirà mai più, allora dirà, probabilmente esce dopo 20 minuti. Aggiunge un evento. Aggiunge un evento in ordine, perché se l'evento alle 9.26 diceva entra una persona, allora il simulatore dirà che alle 9.56, no 20 minuti abbiamo detto, alle 46 quella persona dovrà uscire dall'ufficio, dello sportello, whatever. E quindi inserisce un evento alle 9.46. L'evento alle 9.46 non sappiamo se sarà il prossimo dopo le 9.26, se in mezzo ce ne sono già 8 o se gli altri eventi sono tutti successivi. Non lo sappiamo, noi ipotizziamo l'istante di tempo in cui avverrà un certo evento nuovo che stiamo generando e lo dobbiamo inserire nel punto giusto, non in coda alla lista. Allora, per questo martedì scorso avete ragionato sulle code prioritarie, che è un tipo di lista in cui l'ordine degli elementi è dato da una funzione di ordinamento, su un comparatore, in cui inserisco gli elementi e l'elemento si va a posizionare nel punto della lista che rende crescente la funzione di confronto. E quindi ho il metodo di Paul che mi estrae il primo elemento della coda. La coda prioritaria è uno strumento informatico che ci serve proprio in questa situazione, in cui io ho tanti eventi e li butto dentro. Non so se questi eventi saranno tanto nel futuro, poco nel futuro, saranno prima di altri, dopo altri. Quindi butto dentro in qualunque modo, ma estraggo sempre in ordine, ogni volta tiro fuori il primo. Quindi nel cuore di ciascun simulatore di eventi c'è sempre una coda prioritaria in cui la funzione di priorità si ha il tempo. Poi magari c'è anche più di una coda prioritaria o più di una lista, però questa c'è sempre. Quindi in qualche modo noi abbiamo questa lista degli eventi che interagisce, o meglio è una struttura dati del simulatore in quanto tale, e il simulatore interroga la lista ogni volta per chiedere il prossimo evento, uno, e il compito del simulatore è quello di elaborare, calcolare le conseguenze di quell'evento. E tra le conseguenze di quell'evento può esserci la creazione di nuovi eventi, e che vanno ovviamente a finire nella stessa lista di eventi. Quindi quella lista lì è una lista che in qualche modo si autoalimenta fino a un certo punto. E qui quindi simulo il comportamento del sistema. Questo simulatore ovviamente si comporta in modo diverso in funzione di alcuni parametri dello scenario. Dicevamo il numero di aule, i giorni, le strategie, eccetera, eccetera. Qui avrà una serie di variabili da impostare che fa sì che il simulatore poi quando riceve un evento si comporti in modo leggermente diverso, a seconda di questi parametri. E poi alla fine della simulazione a questo simulatore potrò chiedere quali sono le misure significative, i valori che mi interessava conoscere dalla simulazione. Quindi abbiamo una fase preparatoria in cui al simulatore dico qual è il contesto, lo scenario che deve simulare, poi alla fase runtime, che è semplicemente un scambio chiuso di informazioni tra il simulatore e la lista degli eventi, e quando lui ha finito di simulare vado a interrogare il simulatore dicendo ok, dopo che hai fatto tutto questo mi dici quanto ho perso, quanto ho guadagnato? Quindi ho tre momenti, inizializzazione, definizione del scenario, esecuzione della simulazione, gestita dalla lista degli eventi e interrogazione dei risultati. Questa lista degli eventi è una cosa prioritaria, dicevamo, e in una simulazione dinamica la priorità è quasi sempre dettata dal tempo. Quindi immaginate che ogni evento ha un suo timestamp, un timbro datario, un numero che identifica in modo univoco l'istante di tempo a cui si riferisce quell'evento. E la coda, la lista degli eventi è una lista, immaginiamoci una lista, ordinata per valori crescenti della variabile tempo. Il tempo lo possiamo gestire poi in modi diversi, per le prime simulazioni il tempo sarà un numero intero. Poi settimana prossima approfondiamo un pochino la gestione delle date, del tempo, delle ore in Java e quindi riusciremo anche a usare delle date reali o degli istanti di tempo reali, anziché solo dei numeri. Ci serve se dovessimo fare le simulazioni su più giorni o cose di questo genere, gestire le date. Se simuliamo solo una giornata, una cosa semplice è usare un numero intero che rappresenta il numero di minuti dalla mezzanotte. Quindi adesso nel 9 e 27 glielo rappresenterei come 9 per 60 più 27, fa un numero che è il numero di minuti, il minutaggio di questo istante di tempo. Quindi non preoccupiamoci per ora di come gestisco il tempo, è un numero che cresce. E però non devo solo dire quando succede qualche cosa, ma che cosa succede? Che cosa l'evento rappresenta? E quindi questo evento in qualche modo avrà un tipo diverso. Prima mi sono lasciato sfuggire che ci sono due tipi di eventi, la persona entra e la persona esce, ma magari ce ne sono di più. Quindi io mi segno nel futuro tutte le cose che succedono e di ciascuna cosa mi segno che cosa succede, quale tipo di cosa deve simulare il sistema. Qui ho detto una frase molto generica, ho usato cosa sei volte nella stessa frase, ma perché al momento, fin quando non arriviamo ad un esempio, mi risulta abbastanza difficile specificare di più. Quello che è costante, che posso dire in senso generale vale sempre, è che la lista degli eventi contiene il tempo, cioè il singolo evento tra un oggetto Java che contiene il tempo e un tipo di evento, un campo che dice qual è il tipo di evento da gestire e ci sarà praticamente sempre più di un tipo di evento. Poi possono essersi altre informazioni aggiunte a questo evento. Entra una persona, chi? Magari non mi interessa, quindi mi basta solo sapere che è una persona, oppure mi interessa sapere se questa persona è maggiorenne o minorenne, oppure mi interessa sapere proprio chi è, nome e cognome. Allora questa è un'informazione che ovviamente posso scrivere dentro questo evento, perché se so che è entrato tizio alle 9.26, alle 9.46 scriverò è uscito tizio e così li collego insieme, so chi è uscito tra quelli che sono entrati, oppure magari non mi interessa e semplicemente conto che c'è una persona in più o una persona in meno, quindi so che è entrato qualcuno, è uscito qualcuno senza sapere chi sia uscito, perché magari non mi interessa, tutto molto determinato dalle variabili di interesse che voglio poi estrarre alla fine. E quindi abbiamo questa lista degli eventi che nasce, viene svuotata dal lato dei numeri piccoli, ma viene rimpolpata durante l'esecuzione della simulazione. A un certo punto possono capitare due cose, la cosa più semplice è che la lista finisca, quando io estraggo gli eventi a un certo punto li ho estratti tutti, ovviamente vuole dire che quando estraggo l'ultimo, l'elaborazione dell'evento ultimo che ho estratto non ne genera nuovi, può darsi, non siamo obbligatori, non siamo obbligati a inserire un nuovo evento quando ne elaboriamo uno vecchio. E allora la lista è vuota, il simulatore non ha più niente da fare. Fine. Ci fermiamo, ha finito il suo lavoro, possiamo andare a interrogarlo per sapere cosa è successo. Oppure può darsi che ci siano delle situazioni in cui la simulazione è continua, ma non ha una fine naturale. Allora a questo punto diamo noi esternamente al simulatore alcuni vincoli in cui diciamo, guarda, quando col tempo simulato sei arrivato a tra 8 giorni, fermati, anche se nella cosa degli eventi ci sono ancora cose da simulare sull'ottavo, nono o decimo giorno, ma tu fermati, perché mi interessa solamente osservare quello. Quindi il simulatore termina sicuramente quando o se finisce la lista degli eventi, oppure quando gli si dà un certo tempo in cui deve stopparsi. Possiamo definirlo come tempo, possiamo definirlo come numero di eventi in totale che ha elaborato, possiamo definirli con il raggiuntamento di un certo tipo di condizioni, cioè sono in bancarotta quindi fermati, o altre condizioni di terminazione che siano più legate allo specifico problema e non necessariamente, semplicemente all'esaurimento della lista degli eventi. Però ovviamente una delle domande che dobbiamo farci è il simulatore quando termina? Questa domanda ce la facciamo solamente se la lista degli eventi è potenzialmente infinita, cioè nel genero più di quanti riesco a elaborare, oppure si generano da soli. Qui fare esempio del tempo, tu puoi pensare che ogni ora c'è una nuova previsione del tempo, quindi ogni volta che guardi il tempo c'è comunque sempre una previsione successiva, quindi vado a vedere questa di quest'ora, delle 9, elaboro quella delle 9, ma nel frattempo so che ce ne saranno un'altra le 10 e quindi ogni volta che estraggo un evento nel genero uno successivo, quando estraggo quello delle 10 saprò che alle 11 vado di nuovo a controllare il tempo e quando estraggo quello delle 11 schedulerò che alle 12 ci sarà di nuovo una nuova previsione e così via. E quindi se inserisco almeno un evento per ogni evento che estraggo la lista non si svuota mai e quindi devo avere bisogno di qualche altro criterio di terminazione. Allora dal punto di vista delle classi, del nostro programma, io ho provato a fare questa figura per chiarirmi le idee, allora io vi sono fatto una classe, immaginate una classe simulatore e una classe evento che sono queste piccoline là in alto, l'evento contiene un po' di informazioni, abbiamo detto di sicuro due le contiene che sono il tempo e la tipologia dell'evento. Questi eventi sono incatenati in una cosa prioritaria che è di proprietà del simulatore. Il simulatore avrà essenzialmente il metodo principale, l'ho chiamato qua Run, parti, vai. Quindi ci sarà un'attività preparatoria in cui il simulatore imposto i parametri, dico quanti sportelli ci sono, tipo qual è il tempo medio di attesa, il tempo di arrivo delle persone, eccetera, eccetera, un po' di parametri. E poi il carico degli eventi iniziali, perché il simulatore non può partire con la coda vuota, se no si ferma subito. Il carico è un carico di lavoro iniziale dall'esterno del simulatore, non solo genera da solo l'input. E quindi il simulatore dovrà avere un metodo per inserire degli eventi oppure dirgli come generarli, potrebbe anche essere un metodo del tipo generare a caso uno ogni 5 minuti, oppure può essere dall'esterno qualcuno che gli inietta questi eventi iniziali. Quindi in qualche modo, questo poi dipende da come lo implementiamo, ci saranno dei metodi preliminari che impostano le condizioni di simulazione. Poi c'è un metodo run che la fa partire e poi ho immaginato dei metodi get measure tal dei tali, xxx, che possono essere chiamati solo quando la simulazione è terminata e che vanno a estrarre i valori che mi interessano. Dentro run, cosa devo fare? devo elaborare più volte il singolo evento. Quindi il run sarà un unico ciclo che va a svuotare la coda degli eventi e per ciascun evento della coda lo elabora. L'ho messo come metodo separato, potrebbe essere direttamente dentro il loop, questi sono poi dettagli di implementazione. Però il cuore della simulazione, tutto il resto è grossomodo sempre uguale a se stesso. Il cuore della simulazione è questo process event, cioè quando ho estratto un evento dalla coda, cosa devo fare? Vado a vedere di che tipo è questo evento e poi di conseguenza farò cose diverse. Ecco lì c'è scritto, quello è il nostro modello, come reagisco ai vari eventi. E cosa vuol dire reagire ai vari eventi? Vuol dire essenzialmente magari generare nuovi eventi, ma di sicuro aggiornare il modello. Cosa vuol dire aggiornare il modello? Io ho aggiunto un blocco qua che ho chiamato lo stato del mondo, non sapevo come altro chiamarlo, ma spero renda l'idea. C'è una serie di variabili che descrivono qual è lo stato del sistema in quel momento, del sistema che stiamo modellando. Nel caso dello sportello in quel momento ci sono 18 persone in coda, in questo momento nei 3 sportelli ci sono 3 persone, il primo ha iniziato alle 8.15, il secondo ha iniziato alle 9, etc. Descrive com'è, se fotografassimo il sistema istantaneamente, cosa vedremmo? Descrive il presente. Tornando agli orari di prima, avevamo il modello del mondo che descriveva il presente alle 9.19, descriveva cosa succedeva. Poi c'è l'evento 9.26, allora elaborare l'evento al tempo 9.26 significa aggiornare il modello del mondo dicendo che io so com'era il mondo alle 9.19, so che cosa è successo all'evento alle 9.26, quindi so aggiornare il modello del mondo per portarlo alle 9.26, per portarlo a descrivere qual è la situazione alle 9.26. All'9.26 era entrata una persona, numero di persone più più, può essere banale così, però il numero di persone è una variabile che descrive il numero di persone in coda, la persona è uscita, ha finito, decremento il numero di persone, la persona si è stufata, se n'è andata, un altro tipo di evento, abbandoni più più, quindi in qualche modo ho una serie di variabili, una manciata, cerchiamo di non metterne troppe, però dipende dai casi, che ci descrive cosa sta succedendo e questa elaborazione dell'evento significa che deve aggiornare il modello del mondo, aggiornare queste variabili. Quindi noi abbiamo delle variabili che rappresentano il presente, che ho chiamato lo stato, lo stato del mondo, lo stato del sistema, lo stato del modello, tendo a usare la parola stato per indicare il presente, abbiamo il futuro, un possibile futuro nella coda degli eventi, abbiamo il passato nelle misure che stiamo raccogliendo, del passato non mi interessano i dettagli, cioè nell'evento una volta che è stato elaborato lo butto via, non mi interessa tenerlo, mi interessa sapere che effetto ho avuto in termini di misure, che posso interrogare, del passato mi interessa, in realtà alla fine è quello che mi interessa, alla fine della simulazione guardo all'indietro e vedo che cosa è successo, ma durante la simulazione ho alcune variabili che rappresentano il presente e alcune variabili che rappresentano il futuro, quelle che rappresentano il futuro tendenzialmente sono gli eventi o le classi collegate agli eventi. Tra l'altro prima ho detto, mi sono sentito scappare un possibile futuro, un possibile futuro per due motivi, uno perché ovviamente ripetendo le simulazioni se c'è un po' di stoccaticità ogni volta sarà diverso, ma va bene. Ma c'è un altro motivo, quando io vedo la coda degli eventi in un certo istante di tempo, so che questo process event potrà eventualmente aggiungere nuovi eventi, ma magari potrà anche cancellare nuovi eventi. esempio della coda in biglietteria, io mi metto in coda, quindi evento arrivo, arrivo alle 9.40, la mia pazienza è di mezz'ora, quindi nel momento in cui arrivo alle 9.40 io posso già scrivere l'evento che alle 10.10 me ne vado. Può darsi che non ci sia tanta coda e alle 9.50 io venga chiamato. E quindi ovviamente l'evento tocca a te in lista alle 9.50 viene elaborato prima dell'evento me ne vado abbandono alle 10.10. Allora in questo caso l'elaborazione di questo evento significa anche andare a distruggere un evento futuro. L'avevo previsto, non ne ho più bisogno, l'avevo messo come time out, come salvagente, come ancora di sicurezza, se non succede nulla prima me ne vado. Invece è successo qualcosa prima e quindi lo tolgo. Quindi la previsione che faccio del futuro può anche essere modificata in più o in meno, cioè aggiungendo o togliendo degli eventi, man mano che elaboro gli eventi precedenti. è in costruzione, work in progress questa lista. Per quanto ne so adesso, a quel distante di tempo dovrà succedere questa cosa. Se nel frattempo scoprissi altre cose nuove, vabbè allora vado a correggere, aggiungere nuovi eventi che capitano oppure togliere eventi che pensavo che sarebbero potuti capitare, ma poi nel frattempo mi sono accorto che non capiteranno. Tutto questo lo fa questo codice di elaborazione dell'evento. Quindi questo stato del mondo è un insieme, nel caso semplice, è un insieme, una manciata di variabili tra 4 int messi lì nel simulatore. Oppure possono essere delle liste, dei grafi, delle code, immaginate sempre quel discorso che facevamo sulla coda in biglietteria, se mi interessa solo sapere quante persone ci sono in coda mi basta un numero intero. Se mi interessa sapere chi c'è in coda, mi interessa una lista di oggetti persona e dentro ciascun oggetto di persona probabilmente ci sarà l'orario di arrivo, quindi questa lista degli oggetti persona sarà una coda o una coda prioritaria, può bastare una coda perché è una first in first out se vengono mantenute le code, perché quando poi chiamo una persona se non mi interessa chi è la persona semplicemente dirò persone in coda meno meno, lo decremento. Se invece mi interessa chi è la persona devo estrarre il primo della lista, quindi avrò una lista che non c'entra con la lista degli eventi, che però rappresenta le persone che sono in coda, una normale list in cui aggiungo in fondo e strago in testa, una linked list normalissima, che però contiene l'identità delle persone o l'identificativo univoco, anche se non so chi è, non importa, ma le distingo. Nell'altro caso se non mi interessa distinguerli, mi interessa solamente un numero intero che corrisponderebbe al size di questa lista, al numero di elementi che ci sarebbero in quella lista. A seconda di cosa voglio simulare, mi serve, mi basta qualche variabile spicciola oppure mi serve l'elenco. C'era una simulazione che a me era piaciuta particolarmente quando l'abbiamo data come esame, in cui c'erano degli aeroporti, simulavamo come le persone si spostano tra vari aeroporti. Immagino al mattino ci sono le persone negli aeroporti, poi ci sono i vari voli, loro prendono i voli chiaramente a caso, tra quelli disponibili, poi si trovano in aeroporti diversi e così via. E quindi tu in un istante di tempo devi sapere chi c'è in quale aeroporto e quali voli ci sono in partenza. Allora in quel caso il modello è un grafo che ti rappresenta la situazione degli aeroporti e delle rotte in quel giorno. Quindi può anche essere complesso, può essere molto semplice o anche più complesso la rappresentazione del mondo. E il modello risponde alla domanda, lo Stato risponde alla domanda, se io facessi una fotografia del sistema adesso che cosa vedrei? presente. Ovviamente come parte dello Stato ci saranno anche, ci dovranno essere delle variabili da cui sia possibile estrarre le misure di interesse, cioè il get misure che vogliamo alla fine. Questo era quello che avevamo già detto essenzialmente, imposta parametri, ricarica la coda, che sono parametri iniziali prima dell'avvio, che possiamo in qualche modo dire sono le operazioni preliminari che avvengono al tempo zero e poi c'è l'esecuzione vera e propria che è semplicemente un loop che estrae un evento e lo elabora. Come dicevo, la chiave di tutto sono due, il modello del mondo, lo Stato e il process event, come elaboro l'evento. Tipicamente process event sono alcune righe di codice che come prima cosa analizzano il tipo di evento, entra, esce, abbandona, viene servito, inizia ad essere servito, finisce di essere servito, eccetera. E poi a seconda del tipo di evento, a seconda dei parametri che ho impostato per la simulazione, uno dei parametri è quanti sportelli sono aperti ad esempio, oppure il tempo medio per rispondere ad un utente, a seconda dei valori associati all'evento, quindi quell'evento può essere quella persona, quella persona magari ha bisogno di un lavoro più complesso, un'altra persona invece ha bisogno di un lavoro più semplice, quindi l'evento sa quanto è complicato da elaborare. E a seconda dello stato corrente del mondo, quante persone ci sono in coda? Perché io potrei inventare una strategia per cui se ci sono più di 20 persone in coda chiamo una persona in più e aprono sportello, se ci sono meno di 5 persone chiudo uno sportello. Allora lo posso fare, in funzione del numero di persone in coda attuali mi comporto in modo diverso. A seconda di tutti questi fattori, che ovviamente poi dipende da caso in caso, cosa fa? Aggiorna lo stato corrente del mondo, inserisce nuovi eventi nel futuro e aggiorna le misure. Tutte queste tre cose sono messe come optional perché poi dipende, magari non ha bisogno di aggiornare il mondo, magari non ha bisogno di inserire nuovi eventi, magari non ha bisogno di aggiornare misure, una di questi tre probabilmente lo fa, ma non è obbligato a fare tutti e tre. O a volte ci sono degli eventi che non abbiamo bisogno di lavorare, semplicemente li scartiamo, li estraiamo e buttiamo via perché magari non ci servono. È raro, perché se non ci servisse perché l'avremmo inserito? Però magari non ci serve in quel contesto specifico, perché in funzione, dipendendo da tutte queste casistiche, magari c'è un caso particolare in cui quell'avvento lì lo devo semplicemente buttare via. E questo ovviamente è la parte più difficile, il codice di questo sarà la parte più difficile da implementare. Ancora altri due dettagli, che poi ci possono tornare utili. Uno è la gestione del tempo, abbiamo detto noi lavoriamo con una simulazione discreta, quindi ci servono solo alcuni istanti di tempo, il caso normale è una gestione del tempo di tipo asincrono. Io non ho una preferenza per le 9.26 oppure le 9.31, tutti gli orari vanno bene, l'importante è che lì dentro in quell'orario succeda qualcosa. E quindi il tempo, la varia del tempo salta in modo irregolare, il prossimo evento tra un minuto, ok, il prossimo evento tra sei ore, ok lo stesso, perché vuol dire che nel frattempo non c'è niente che mi interessa. oppure posso avere altri casi in cui genero degli eventi o inserisco degli eventi in più di solito, cadenzati con un certo tempo. C'è un evento ogni mezz'ora, un evento ogni ora, quello che dicevo prima del meteo, ogni ora aggiorno le previsioni del tempo. Ogni 5 minuti valuto quante persone si sono messe in coda. Quindi in qualche modo io ho una sorta di clock, di orologio che corrisponde a un treno di eventi ugualmente spaziati nel tempo e quando scatta il nuovo minuto, ora, mese, anno, quello che volete simulare, allora lui deve, l'algoritmo deve fare qualche cosa, deve aggiornare qualche cosa in quell'istante di tempo. Questi eventi sincroni, dipende dal tipo di simulazione, a volte ci servono per permettere alla simulazione di avanzare, di solito non sono mai gli unici, perché poi quando elaboro un evento sincrono quasi sempre devo raggiungere gli altri eventi e questi saranno sincroni perché capitano quando capitano, quando inserisco eventi nuovi. Questi eventi sincroni quasi sempre sono generati all'inizio, in modo diciamo artificiale, per far sì che il sistema si aggiorni periodicamente. Non è una simulazione continua, perché una simulazione continua avrai qualunque istante di tempo, qualunque numero reale, qui ho comunque una simulazione discreta, solo alcuni istanti di tempo, ma questi sono ben ordinati sull'asse dei tempi e prevedibili, previsti all'inizio. Quello che dicevamo sulle simulazioni stocastiche, qui sono un pochino più puntualizzato, la stocasticità può arrivare dagli eventi iniziali, quindi dagli eventi che caricano il sistema, il tempo di inserimento, i valori, il tipo di evento, di casualità nelle elaborazioni dell'evento, cioè nella process event a un certo punto a volte genera un evento, a volte ne genera un altro, perché magari il 5% delle volte il cliente litiga con l'impiegato, allora questo non succede sistematicamente, però succede con una certa probabilità, allora a quel caso devo inserire l'evento, litigano, vanno lettore, discutono, eccetera, e allora oppure cambia fila, vediamo un po' come gestire questo tipo di evento, che però non succede sempre, quindi stocasticamente l'elaborazione dell'evento, l'event process, il process event si comporta in modo diverso. E quindi in questo caso ricordiamocelo, dobbiamo sempre pensare che la simulazione debba venire ripetuta più volte per avere un risultato significativo, perché un solo valore non mi dice, non è sufficiente a dirmi come è andata la simulazione, è come è andata una possibile simulazione all'interno di quelle che statisticamente possono avvenire dati i vincoli stocastici con cui la simulazione è stata gestita. Ok, questo è un po' il framework generale, adesso cerchiamo di approcciarlo con due esempi, uno semplice, molto semplice, il secondo decisamente più complesso, ovviamente non ci arriviamo oggi, probabilmente arriviamo ad accennarlo e poi lo continueremo domani. Allora, primo esempio che vi introduco prima della pausa e proviamo a simulare un deposito di car sharing, un deposito, ok? Non car sharing all'evelo cittadino, eccetera, eccetera. L'ho chiamato car sharing piuttosto che non affitto di auto perché lo immagino una cosa più dinamica, nel senso che le persone arrivano senza aver prenotato, quindi voi avete un deposito, diciamo così, che inizialmente ha NC macchine, quindi al mattino voi aprite il deposito, diciamo parcheggiate 10 macchine. A un certo punto ogni tanto arrivano dei clienti, un cliente arriva ogni tempo in minuti, cioè ti arriva un cliente nuovo ogni 10 minuti, ogni 15 minuti, ogni 60 minuti, quello che è, un valore, quello che è un parametro della simulazione. Possono esserci due possibilità, o quando arriva questo cliente tu hai ancora delle macchine disponibili nel deposito, allora ne dai una e quando gliela dai lui ti dà una previsione di quando la restituirà. Diciamo che il deposito è unico, non è un sistema di car sharing, quindi la deve riportare lì. E quindi dice io te la riporto tra 60 minuti, 180, 120, 4 ore, quello che è. Quindi io prevedo che a quell'ora ritornerà quell'auto. Quindi, primo caso, arriva al cliente, l'auto c'è, gliela do e ci accordiamo sul tempo per cui lui la tiene fuori. Secondo caso, non ho auto. Cioè lui è venuto, dice dammi un'auto, non ne ho. E allora ho creato un cliente insoddisfatto, che probabilmente non tornerà più da me a andare dalla concorrenza o altro. Quindi questo è un costo per me. Ovviamente anche avere tante auto in deposito è un costo. Quindi mi chiederò qual è il numero giusto di auto che devo avere per evitare di avere tutte in deposito, avendole pagate, non usandole e per evitare di avere clienti insoddisfatti. Oggi dove ho un certo numero di clienti o domani tra un anno quando avrò magari il doppio di clienti e quindi il tempo di arrivo si affievolisce. Quindi proviamo poi a simularlo oggi e il domani. Quindi in funzione del numero di auto, in funzione del tasso di arrivo dei clienti, calcoliamo quanti clienti diciamo servire in una giornata, quanti clienti arrivano è facile perché la durata della giornata è diviso t in. Questi sono i clienti che arrivano. Ma quanti di questi sono soddisfatti e quanti invece sono insoddisfatti? Descritto così è un problema relativamente deterministico, come simulazione, se partite è una cosa semplice, in cui mi interessa sapere qual è l'evento. L'evento è che arriva un nuovo cliente, poi ci sarà un altro evento che il cliente mi restituisce la macchina. Sono le due cose che cambiano lo stato del mondo, quando do una macchina fuori e quando questa macchina ritorna. E cos'è lo stato del mondo? È il numero di macchine che ho in garage. Oppure un tasso di arrivo noto dei clienti, cosa che è assurda ovviamente nella realtà, però per partire possiamo iniziare così, io so esattamente arrivano uno in 10 minuti, ben cadenzati. E posso ipotizzare che il tempo di viaggio sia magari una varia casuale, che può essere un'ora, oppure due, oppure tre ore con uguale probabilità. Probabilità di un terzo che stia un'ora, probabilità di un terzo che stia due ore, probabilità di un terzo che stia tre ore, ad esempio. Poi ovviamente questi sono parametri che posso modificare in 100 modi diversi. Però proviamo a impostare una simulazione che parta da questa ipotesi molto semplice. Ha un input deterministico e un'elaborazione leggermente stocastica, perché il tempo di viaggio non è predeterminato, ma è casuale tra tre valori predeterminati. partiamo da qui. Quindi, ragionando su questo caso, il modello del mondo conterrà almeno due informazioni, il numero di auto totali che ho a disposizione, quindi quelle che al 6 del mattino sono in deposito, e il numero di auto disponibili in quel momento, cioè quelle totali meno quelle che sono uscite, che ho dato in affitto. Poi altre due misure che ho messo un po' staccato, perché sono più misure di output che non misure di stato, sono le variabili di interesse, quanti clienti ho servito nella giornata e quanti di questi clienti sono stati insoddisfatti del mio servizio, cioè non sono riuscito ad affittargli un'auto. Queste due cose ovviamente ha senso andarle a interrogare a fine giornata, mentre queste, le prime due, ha senso andarle a considerare in continuo, cioè sono lo stato del sistema che sta evolvendo. Anche queste sotto evolvono, però mi interessano solamente a fine simulazione, quelle che prima hanno chiamato le misure di interesse. E che cos'è? Cos'è un evento? Un evento è qualcosa che può cambiare il mondo, nel nostro piccolo. E che cos'è che può cambiare il numero di auto totali? L'incidente potrebbe cambiarlo, oppure l'acquisto, allora l'acquisto non è che l'acquisto dinamicamente ogni giorno, l'acquisto 2 o 3 di auto. L'incidente potrebbe modellarlo, non sarebbe male, ho una probabilità su 1000 che un'auto abbia un incidente e quindi poi non la posso riusare, ma in questo caso nel testo non ne parlava. Quindi in qualche modo da ciò che descrive il testo deduciamo che il numero di auto totale sia costante, non può né aumentare né diminuire. Quindi non c'è nessun evento che possa cambiare quel valore, il numero di auto totali. Invece ci sono degli eventi che possono modificare il numero di auto disponibili, ancora disponibili in deposito. Cioè quando arriva un cliente e quindi può darsi che prenda un'auto se c'è, oppure quando il cliente restituisce l'auto. Allora questi due eventi, quello secondo quando il cliente restituisce un'auto di sicuro cambia il numero di auto disponibile, incrementa di 1. Quando arriva un cliente può darsi che decrementi di 1 il numero di auto disponibili e può darsi di no perché magari è già 0, quindi cosa decremento? Non ce l'ho. Ma in quel caso incremento il numero di utenti non soddisfatti. Quindi in qualche modo questi sono i due eventi che cambiano lo stato del mondo. Il presente è questo e per passare da questo presente a un altro presente è successa una certa cosa e nel succedere questa cosa sono cambiate le variabili in gioco. E ovviamente nel frattempo il tempo è andato avanti. Ok, sulla base di questo testo e di questo primo ragionamento e sulla base dell'evento intervallo alle 9.59 ci rivediamo tra un quarto d'ora per iniziare a implementarlo.